Questa è la parte 3 del progetto di luce perché sono molto entusiasmo per questo quindi capisco come funziona con il controllo remoto quindi puoi ascoltare anche la musica da qui poi puoi cambiare il colore ecco qua, come questo cambiare il colore e puoi anche mettere la musica ecco qua ora si muove ora si muove seguendo la musica wow però io preferisco la musica è chiamata 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 il bordeaux anche il verde con il bordeaux perché mi mixa il colore il rosso con il verde ora il blu con il rosso il blu con il bianco poi c'è il fade 2 che fa in automatico cambia il colore in automatico mi mixa il colore e abbiamo 25 colore e compriamo questo per solo 300 pesos questo è 300 pesos in euro 5 euro per 5 euro compriamo questo e abbiamo anche il strobo quindi quando mettiamo il microfono va con la musica quindi lo uso per il streaming anche per giocare con la mia son è molto buono per la famiglia anche però io preferisco il fade 1 con il blu dove è il blu ok il fade 1 ecco quindi grazie a tutti per aver guardato faccio molti video per questo perché è molto bello prendono tempo per capire come funziona quindi 3 video solo per questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti